salve care amiche ed amici qui il vostro santenchan che vi saluta come sempre dal suo canale di youtube santenchan per qualche giorno non ho fatto più dei video non so quanti mi dispiace ho avuto molto da fare ma adesso 15 agosto 2014 vi auguro a tutte e tutti voi di avere un magnifico ferragosto probabilmente il video lo caricherò domani oggi fa un'incredibile giornata di sole non so che temperatura faccia però farà molto caldo con rispetto alla tendenza ultima beh come dire speriamo che questo sol leone questo sol ruggente questo sole d'agosto si ferra agosto ci porti tante cose buone tanto calore nelle nostre vite e scaldi i nostri animi ci dia una meritata pausa nel nostro lavoro se lavoriamo e se no invece sia il pretesto per ritrovare lavoro tanto per i politici che gliene frega se lavoriamo no questa è una festa per i lavoratori del lavoro però lavoro non c'è e di lavoratori se ne vanno all'estero quindi anche buon ferragosto a tutti i lavoratori italiani all'estero che magari avranno motivo di fare una pausa perché in italia lavoro non c'è quindi pausa quindi augurandovi buone vacanze di ferragosto colgo il pretesto per salutarvi quindi questo è solo per salutarvi affronterò altri argomenti in un altro video a questo lo voglio fare breve per poterlo caricare subito magari domani e quindi niente buon ferragosto del vostro sentenza magari anche altri vi avranno augurato buon ferragosto io ho poi il video lo faccio in ferragosto 15 agosto quindi magari vi arriveranno tardi questi auguri però è sempre meglio tardi che mai quindi voi avrete trovato questo video perché avrete cercato ferragosto niente è una festa tipica italiana che si è diffusa in tutta italia ma era tipica di roma giusto che manca il lavoro si festeggia il ferragosto in tutta Italia prima che si lavorava di più solo in Italia e in Roma prima dicevano che i romani non volevano lavorare non avevano voglia di lavorare perché facevano il ponte di ferragosto adesso che non si lavora in tutta Italia c'è il ponte di ferragosto in tutta Italia bella questa no vabbè allora salve a tutti quelli che mi seguono e anche a quelli che mi guardano per la prima volta non lasciate di seguirmi vi ringrazio a tutti e tutti voi che le visioni del mio canale aumentano molto però mi hanno detto che bisogna raggiungerne 100 mila a ogni video io sono disoccupato e mi piacerebbe che tutte e tutti voi mi aiutaste avere qualche centesimo da youtube quindi diffondete i miei video quelli che vi piacciono di più nei centri sociali fra i vostri nei gruppi nei gruppi sociali centri sociali anche se volete non so nelle piattaforme in internet col cellulare diffondete i vostri amici parenti e conoscenti ma anche ai vostri nemici se ne avete i vicini di casa contatti in internet i miei video in modo da aiutarmi a guadagnare qualche centesimo e mettete il like ai video che vi piacciono io adesso vi lascio continuerà a fare dei video prossimamente però adesso auguri di ferragosto e grazie di seguirmi mi raccomando aiutate a diffondermi in rete diffondete i miei video aiutatemi a che aumentino le visioni perché sono disoccupato ve lo dico questo oggi 15 agosto ferragosto che è la pausa dei lavoratori e io non ho lavoro aiutatemi a sbarcare lunario con youtube diffondete i miei video e diffondete il mio canale vi ringrazio a tutti e tutti che mi seguite con i vostri like con i vostri commenti e con le vostre iscrizioni arrivederci e non mancate di seguirmi in instagram come instagram su come santa e chan ciao ciao